E' un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia. E' il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea, ascolta la Progressive, è da lì che viene l'idea. E' sognando che si crea, si crea musicalmente, la voce che non c'è, fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!